Allora, io sono sempre una persona di parola è un momento un po' emozionante per tutti però potrete dire di essere stati qui a questo grande evento potrete dire io c'ero Oggi, 31 maggio 2013, alla festa di Agraria è qui con noi l'unico, inimitabile e potrete vedere dal suo amato Jack Daniels Pino Scott! Ragazzi, una cosa sola e vi posso permettere di dire o perché posso essere vostro nonno ho 64 anni non fatevi fottere la vita ragazzi perché me la stanno fottendo Grazie a tutti 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 E questo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti